Impostazioni del quadro strumenti La Qashqai dispone di una vasta gamma di parametri per personalizzare la tua esperienza di guida, navigando attraverso i vari menu e modificando i parametri del tuo veicolo. Le impostazioni del quadro strumenti possono essere modificate utilizzando il pulsante Su-Giù e il tasto Enter sul volante. Terge cristalli Collegamento retromarcia Se questa opzione è selezionata, quando l'interruttore del tergicristallo è in posizione auto o in movimento e la macchina è messa in retromarcia, si attiverà il tergicristallo posteriore. Terge cristalli Se questa opzione è selezionata, una passata ulteriore avverrà tre secondi dopo per eliminare le gocce d'acqua rimaste sul parabrezza anteriore. Specchietti retrovisori Seleziona l'opzione relativa agli specchietti retrovisori flessibili. Ritiro automatico Flessibili all'accensione Flessibili allo sblocco Riconoscimento dei cartelli stradali L'ultimo cartello stradale riconosciuto di limite di velocità è segnalato al centro, nella parte superiore dello schermo, delle informazioni del veicolo. Flessibili allo sblocco